Con Vodafone U la tua ricarica ti premia ogni mese. A febbraio Vodafone U premia la tua voglia di shopping. Per te in regalo un buono sconto OVS da 5 euro da spendere come preferisci. Averlo è semplice. Ricarica almeno 10 euro entro il 28 febbraio. Richiedi il codice chiamando o scrivendo premio al 4 26 26 oppure vai su voda.it slash you. Riceverai un sms con il tuo codice. Inseriscilo ora su voda.it slash sconti e stampa il buono sconto. Oppure invia un sms al 190 con scritto invia il tuo codice e la tua mail. Riceverai il buono sconto da stampare nella tua casella email. Trova il negozio OVS aderente all'iniziativa più vicino a te. E premiati entro il 31 marzo. Scegli tra tutti i prodotti presenti in negozio e mostra il buono in cassa. Goditi lo shopping con Vodafone U.